Oh, vieni, vieni, Giorgino. Allora, tutto bene? Ah, oh, senti, cara, qua vanno un po' un basetto di conserva per il nostro mito, eh? Sì, sì. Oh, mamma mia. Allora, dimmi il po'. Un'altra comanda, hai avuto modo di arrivare all'entrante e poi... Ma che? Per ora niente da fare. E poi io bisogna che si torni a tutti i posti. Voglio tornare in ufficio. Ho già perso troppi anni. Prima militare, poi posso nascosta. Devo anche fare un po' di carriera. Devo anche decidermi a mettersi un po' di famiglia. Caro mio Giorgino, vieni qua. Allora, Giorgino, lo sai chi è venuto a trovare? Chi? Quella signora e quella signorina. Quale? Ma non ti ho detto di quella notte. Quelle che salvarono lei il cavaliere. Sì, proprio loro. Le ho mandate a cercare. Guarda, ho fatto tanto piacere che siamo venute. Ma dico, perché hai lasciato i sule? Vado anche una fin saperte. Che tonne, che tonne. Tu non lo prenderai, Giorgino, eh. Avessero accennato a quello che hanno fatto per noi, a sacrificio che è stata costretta a fare la Manone. La signorina si chiama Manone. Ti chiama questo nome? Sì, sì, sì. Neanche una parola, neanche un altro a suo posto. Ma te l'immagini le esigenze che avrei avuto per prendere un bello sborso? Eh, per te se non sarebbe anche a quello. Lei niente. Come se non fosse stata lei a sacrificarsi. E il tuo zio è lo stesso. Capisci che questi sono pronti a guardare il cuore. Io ci sono stata affezionata. Eh, lo credo, lo credo. Io non so posto, eh. Posto invidiabile. Eh, nessuno come te è in grado di capire il vero. Eh, lo dica a me. Ora, per fortuna, la guerra è passata. Abbiamo avuto dei danni, eh. Quattro milioni? Sì, ma. Quattro anni i batterioli sono un po' semifragli. Ma che governa, mamma mia da loro? L'ha un pacco. Ma quella poverina. Chi è che c'è? Nessuno, nessuno. Ma ti sembra giusto questo? Eh, no, eh. Te dovremmo usare giocato a un capire. E' tanto carina sta il Giorgino. Poi la vedrai. E' uno che sta bene, eh. Ha la trattoria di sartoria, eh. No, un altro giù, ma figlio. Io, guarda. Se avessi un figlio che mi dice Alla vero, scusami al bordo, da andare in piedi. Eh, lo credo, lo credo. Non è mica una donaccia. Eh. Una vittima della guerra. Volontaria. Ma non c'è sempre merito. Di più i volontari hanno più merito dei richiamati. Guarda, io ti dico la verità. Non so cosa darei per sistemare quella povera scrittura. Anzi, qualcosa darei di sicuro. Eh, avrei come anche io ha detto. E chi ce l'ha detto? Eh, come tu. Guarda che poi lei assi tu. Ah, un po' giù di nuovo, signor. Allora io... Eh, grazie. Visto? Non ti fai da niente, assolutamente. Eh, ma signor, io non ho manco ancora vista, eh. Ma che discorso, Giorgio? Bisogna che quella veda che ti piace. No, ma non ti fai da niente. No, ma non ti fai da niente. Eh, grazie. O, per l'altro che io abbia scuso un'altra nuova. Questo sarebbe... ...dietà, un tanti da parte. Questo sarebbe bu. Eh, ho capito che tu io scusero farei una tenuta volta, fra il tuo. Questo tutto sarebbe anche io. Scegli. Il cappone è di là. È del bello grosso. Sì, non è che ti fai a cena con noi? No, no, è troppo disturbo. Dile che ti fai a cena con noi. Ma qui, Giorgino, fermati. Cerca il cappone. Così avrei molto di conoscerla, di parlarsela. Ah, che venivo grosso. Io qui ci sarei morta. Uh, mia affardiccia. Signore, il presezzo Giorgio Pacesù. È nipote dell'altro parolo. Che lui è andato. Noi lo chiamiamo Giorgino, perché praticamente abbiamo visto nascere. Ehm, ma cavalliere, quelle non sono... E' tanto fra uomini e... E' anche un scianto. Ma sì, ma sono seppute. E quella sarebbe la riporta. Giorgino. 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 Oh, la signorina Ligiana, carissima. Oh, ma che piacere di me? Oh, come vai? Oh, come vai? Oh, come vai? Eh, poi... Alla34, finalmente. Ma, questa è una grossa... Beh, sta saliendo una muzza. Cosa... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah. Ah ah, ah. Ah, ah, ah. Lui è la mia Ligiana! È un'altra diposta della signora. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah ah, ah, ah ... Ah, ah ah ah. Ah, ah, ah ah. Si ferma anche il nostro ragioniere? Oh no, 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 non è proprio il caso Lo zio starebbe in pensiero Scusiamoci, non diamo qualcuno a risarmi Proprio di stupo Sarà per un'altra volta Signorine Ma che cosa ne ha fatto un pensiero? Ragioniere, carissimo Fuori poco pronto con noi Stai andando in oro Oh no, no, no E sarà per un'altra volta Signor Cavaliere Ragioniere, aspetta La conserva La posso prendere? Questa è tutta l'ora genuina Questa